allora ospite ormai non sei neanche più un ospite perché sei mezzo padrone di casa vinicio marchioni all'hot corner come stai vinicio? molto bene molto bene allora sei soddisfatto la festa del cinema di roma due progetti importantissimi perché paola cortellesi c'è ancora domani i leoni di sicilia di paolo genovese partiamo da paola? paola abbiamo aperto la festa del cinema di roma ha fatto un gran film che esce ma com'è da regista paola cortellesi la vera domanda è questa è una super attrice che ha scritto la sceneggiatura insieme a fuori andreotti e la calenda se non sbaglio Giulia Calenda e quindi sa alla perfezione ogni ingranaggio del film avendolo scritto e da super attrice sa come condurti a quello che vuole lei a quello che ha pensato lei sulla scena quindi è molto semplice divertentissima leggerissima penso che abbia fatto 60 chilometri al giorno tra i mona e il set perché poi è un'ossessiva compulsiva del non del controllo perché non è una cosa negativa però ha le idee molto chiare e vuole che siano così capito e quindi però lo fa sempre con grande leggerezza grande amore grande altruismo tiene il set e tutta la truppa in uno stato di grazia costante quindi è stato un piacere enorme poi mi ha offerto un ruolo una partecipazione in realtà di due scene che però sono importanti nel film sei l'uomo dei sogni diciamo banalmente però sei quello che rappresenta una specie di mcguffin perfetto poi per chi vedrà il film ma scoprirete però è stata un'esperienza bellissima e penso che sia un film che possa che potrà avere un grande cammino senti tra l'altro parlavo con giorgio colangeli che aveva intervistato emanuela fanelli che è stata qui della romanità che viene messa in scena che è una romanità ovviamente molto diversa da quella contemporanea il romanesco stesso è molto diverso meno strascica perché quello del 46 era un altro tipo di romanesco tanto che colangeli mi ha detto che stavate attenti su set ai due bambini che non dicessero delle parole delle parolacce come è stato perché poi quello era un'altra roma era un altro tempo io penso che sia stato e penso anche per il pubblico non solo quello di roma ma penso che il pubblico di tutta italia sarà anche una sorpresa linguistica nel senso che c'è una morbidezza c'è una un'accoglienza c'è una romanità che è rimasta di tradizione diciamo ma che veri difficilmente si trova più oggi oggi perché è diventato tutto molto più cattivo molto anche più greve il romanesco è diventato più greve c'è invece una romanità più calda più romantica se vuoi più accogliente in quel senso di romanità di un bel tempo che fu diciamo una grazia c'è anche una grazia sottese che è molto bello molto molto bella invece progetto totalmente diverso il leone di sicilia un best seller alle spalle disney plus streaming e lì col tuo amico paolo genovese che ormai è il quarto progetto che per cui paolo mi chiama e sono contentissimo perché è un progettone enorme c'è disney dietro beh poi la quel libro lì è il libro evento di best seller mondiale uscirà il 26 in tutto il mondo in contemporanea quindi insomma io il mio ruolo è quello di paolo florio quindi il capo stipite il patriarca il padre padrone diciamo mi sono divertito molto nel senso che è un ruolo se nel film di paola faccio come dire l'uomo dei sogni nel senso che è un uomo romanzi intuisce essere un uomo romantico che ama e rispetta le donne sulla serie di leoni di sicilia è un uomo dell'ottocento che non aveva tempo per i sentimenti insomma molto pratico molto burbero despota un uomo manesco un uomo rude recito in dialetto calabrese che è stata una una cosa bellissima beh poi per te comunque si si è stato lo sapete cioè tu parli essendo mezzo calare si 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 ed è stato bello che paolo me l'abbia lasciato fare perché ci abbiamo ragionato molto nel senso che siccome paolo florio è il primo florio che ha deciso di trasferire la famiglia dal bagnara calabra palermo era importante far sentire che lui si portasse dietro questo dialetto che all'epoca era di un'altra terra certo rispetto a avere un retaggio completamente siciliano mentre invece vincenzo florio che il figlio più piccolino quando partiamo all'inizio di questa di questa saga familiare che è cresciuto poi invece a palermo palermo era giusto che avesse un accento siciliano e questo ci ha permesso anche di costruire tutte delle dinamiche di non accettazione della nobiltà siciliana della propria borghesia siciliana perché erano considerati degli stranieri dei mercanti dei putiari come li chiamavano in quell'epoca lì e questo penso che abbia aumentato come dire i vari conflitti che fanno sì che poi questa che i florio si tirassero fuori questa smagna di potere questa famiglia si eccetera eccetera quindi c'è una fotografia pazzesca di fabrizio lucci ci tengo a sottolinearlo perché fabrizio è il direttore della fotografia che lavora sempre con paolo genovese e ha già fatto dei lavori pazzeschi ma questo devo dire che ha un respiro veramente mondiale fotograficamente la sicilia è ritratta che vuoi trasferirti immediatamente che è già così per chi la conosce la sicilia naturalmente però in questo film devo dire che è bellissima proprio come poi certo tipo la california d'italia se definisce poi tu c'è un altro progetto invece che la pergola che allora la pergola si il teatro nazionale di firenze ha chiamato me per condurre un progetto sul calicola di camion lavorando con gli ex allievi della pergola e della scuola dell'oltrarno di firenze quindi attori e attrici diplomate ma che hanno 25 30 anni sul calicola di camion appunto abbiamo fatto le prime tre settimane di lavoro concluderemo la prima parte entro fine anno e poi la seconda parte del progetto si starà nelle prove vere e proprie dello spettacolo che di cui curerò la regia milena mancini si occuperà della parte di movimento scenico recitazione ed è una roba molto molto alta sono orgogliosissimo perché poi questo progetto fa parte di un progetto di formazione internazionale in collaborazione con il teatro della villa di parigi lì in francia stanno lavorando su un testo di virandello e noi in italia lavoriamo su un testo di un autore francese e in futuro c'è la possibilità anche di lavorare noi con gli attori francesi e loro con i nostri e mi sembra un progetto molto alto e molto figo senti grande cine grande tv quando c'è il teatro però tu c'è sempre l'occhietto che sto a casa che luccica sto più a casa diciamo è quella se domani venisse uno dicesse devi scegliere tra una tra le tre teatro subito in questo momento penso di sì penso di sì ma semplicemente perché quando vento in un teatro sto automaticamente il mio umore si trasforma mi sento a casa mi sento protetto e poi più bello ricrearla la realtà completamente che non viverla perché sono lì fuori stanno dei mostri assurdi senti finisce che spettatore sei oggi che guardi qua è stata l'ultima cosa che ti ha folgorato folgorato penso the bear e lui è fantastico che cazzo c'è un montaggio e un plot è una sceneggiatura un'idea semplicissima se vuoi sviluppata da dio con un montaggio e una dialoghi che sembrano dei dialoghi incredibile 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 tutto girato dentro una cucina che mi sono chiesto anche come cazzo hanno fatto a si era perché è claustrofobico a un certo punto lui è ovviamente magnetico tutto storto ma bellissimo e poi la colonna sonora ogni tanto ti parte in pezzo dei pergeno dei rem parte della roba incredibile la folgorazione è stata quella di serie devo dire che non ne ho viste tantissimo ultimamente perché fortunatamente ho lavorato tanto ho visto documentario su te li vaga a quello su netflix netflix e devo dire che tanto tante cose mi erano sfuggite non stato rinesce molto meglio di quanto sempre si sembra sempre il il poch boy il principino di turno con la moglie in realtà cazzo è stato un giocatore della madonna prima di tutto e poi nonostante abbia vissuto quegli anni lì dei galatticos madrid poi ho riflettuto tanto su la percezione del nostro tempo quanto sia cambiata cioè quanto è cambiata la percezione che hai rispetto al 2003 2004 certo e e mi sono riscoperto dire ma a me se mi hanno passato i 40 anni da questa roba è vera e questo mi ha un po cioè mi è rimasta impressa con quella serie più che altro per questo motivo qua perché mi ha fatto riflettere appunto su quanto la velocità degli ultimi anni che ai grandi cambiamenti degli ultimi anni la pandemia e tutto quanto ci abbia proprio trasformato la percezione del nostro tempo e della realtà e di ricordi sembrano lontanissimi mentre invece stiamo parlando di tutto sommato vero sono anni fa 15 anni fa 18 anni fa quindi la relazione è cambiata senti ci abbiamo il nostro angolo però del mito abbiamo fatto montgomery clip l'abbia fatto james d l'abbia fatto brando l'avevamo fatto forse l'avamo aggiornato a bari 6 che mito facciamo difficilissimo ragazzi però su tutti e tre americani è un italiano e bene fatto francese va bene c'è qualche francese invece o meno ma non so se mi sono c'è sì no sono un grande fan della nouvelle vague quindi dice però bel mondo sì però non non a quelli manda arriva quelli per esempio mi ha colpito tantissimo il ritiro di michael kane dalle scene a 90 anni perché penso che sia stato un gigante assoluto e parlavo l'altro giorno con la mancini invece di daniel de lewis che forse possiamo annoverare tra i miti ma anzi senza forse trattò era apparsa qualche mese fa una fotografia di lui per il mio col cappello da baseball che girava ecco l'erona sta mantenendo fede ma io penso non tornerà indietro ahimè penso non tornerà indietro vorrei riuscire se ci fosse la possibilità invitarlo a cena perché lui è uno di quelli che secondo me anche molto pane olio ma qual è il tuo daniel de lewis preferito 80 90 2000 ma tutti come vai devo dire che angus of new york è un fatto abbastanza epocale l'ultimo dei muicani è una roba incredibile il mio piede sinistro è una roba che non ci puoi credere come cavolo abbia fatto il petroliere fa paura e trovi fa paura io per esempio continuo a ricordare a citare un film che viene citato poche a the boxer the boxer l'ho rivisto per ghiaccio io quel film è certo l'ho rivista è stato un luogo lui meraviglioso quindi è una delle cose delle mancanze io sono due cose che mi dà fastidio proprio che non riesco a mandare giù il fatto che io come dire proprio fisicamente naturalmente non potrò nemmeno mai augurarmi o sperare o sognare di lavorare con stalle kubrick perché è morto e quindi non neanche nei sogni e neanche con danny daylwis e questa cosa mi dà molto prestigio tra qualche anno si stufa tra un po' no secondo me no secondo me si è stufato del cinema secondo me è un po' come gloria swanson il ideale del tracamonto io sono troppo grande e il cinema che è diventato e potrebbe avere anche qualche ragione secondo me si finisce marchione l'hot corn grazie finisce andrea morandi hot corn grazie a tutti